Lei è il più grande chef del mondo. Sarà il mio chef per il prossimo vertice del G7. Come i tre moschettieri. Uno per tutti, tutti per uno. Ma che mi avete scambiato il culo per questa giccia? Uno chef internazionale come me, gli ingredienti, mi trova sul posto. Ma non volevo mandare al supermercato. Avrei bisogno di una sostituzione. Devo andare a prendere mia moglie Perla a lavoro. Fa la pasticcera, si fa un culo. Non vuoi vedere il pasticciò? Lina, a me piace tantissimo. Quando ti ho visto, è venuto un fremito. Ma che c'è voi? Se questo fa un figlio, resta una gicogna. E adesso lo chef ci presenterà il menù di Natale per la sfida. Sembra buono. Coima! Sì, buona pammizze. Ha visto una maiala? Una maiala! Una bullola di maiale! Beata, ma che ci fai qui? Dimmi, dove sta quella grandissima maiala? Ma quale grandissima? Mia, è nana! Te l'hai presa pure nana! Ho passato una notte meravigliosa. Pazzesco, ma chi me lo doveva dire una trombatazza così? E che c'è fa dentro la torta? No! Buon dopo! E che c'è fa dentro la torta? Eh, è una torta della nonna! Pensate un po' all'invidia dei miei colleghi quando gli dirò che mia moglie farà i bomboloni a Donald Trump! Buon dopo!